Ciao a tutti dall'Allis Averio, dall'Allis Fishing. Sono venuto a farti vedere un altro nodo scorsoio che si può praticare su un amo con gamba a paletta. Per fare quest'altro tipo di nodo scorsoio si prende il filo e si crea questa situazione. Il filo rimane accoppiato così, si appoggia sul gambo del amo, così si comincia a girare in senso inverso, cioè verso la paletta. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivati a questo punto si tira la parte superiore in questa maniera qua. Si bagna il nodo in maniera tale che durante la serratura del filo tutte le spire passano in maniera fluida.